Il complemento di privazione, lezione base esercizi a cura del prof. Alfonso Zera. Individo il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase. Il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase. Il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase. Il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase. Il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase. Il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase. Il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase. Il complemento di privazione ai 5 secondi per ciascuna frase.